il Vice Presidente Lobello e poi passeremo alla seconda tavola rotonda. Grazie. È stata una tavola rotonda veramente interessante. Credo lo sarà anche l'altra e dà il segnale comunque di un Paese, di un mondo dell'impressa che non si piange addosso, come abbiamo detto, e che invece ha una grande voglia di scommettere e di pensare positivamente il futuro del nostro Paese. Ma entro subito nel merito del mio intervento. Dopo più di 25 anni e dopo una crisi drammatica che stiamo pagando ancora oggi, però all'interno di un quadro anche di una forte rivoluzione digitale e tecnologica, abbiamo sentito l'esigenza di riportare al centro il dibattito del tema del capitale umano. Non lo facevamo dal 1986. Io non lo ricordavo, però credo che chi ha una maggiore militanza nel nostro sistema ricorda che a Mantua, nell'86, Confindustria ha lanciato una grande riflessione sulla formazione del capitale umano. Anche lì come fattore di innovazione e sviluppo. Quindi siamo sostanzialmente in continuità con quella esperienza. Vedete, io parlerò di alcuni temi. Sarò breve perché non voglio togliere riflessioni interessanti al secondo dibattito. E però parto da una questione fondamentale che molto spesso è stata ignorata nel dibattito pubblico. E cioè l'effetto che hanno gli immutamenti tecnologici rispetto al sistema scolastico. Vedete, noi abbiamo attraversato in questi ultimi 10, 20, 30 anni un grandissimo cambiamento che non riguarda ovviamente solo la tecnologia. Riguardo a tanti fattori sociali ed economici. Pensiamo alla globalizzazione, all'immigrazione. È un elemento di cui non ci occupiamo ma che è un elemento fondamentale anche per la valutazione del futuro del nostro Paese. Rivoluzione tecnologica, digitale, tante scoperte scientifiche, l'aumento dell'età media, le maggiori competenze che emergono in tutti i grandi Paesi avanzati. Allora, noi siamo di fronte a una stagione e quindi che richiede una riflessione profonda sul ruolo dell'education e sull'idea di futuro. Che dobbiamo offrire alle giovani generazioni. Vedete, la democrazia come l'economia hanno un elemento fondamentale. Hanno un rapporto strettissimo con il sapere e con la conoscenza. Vedete, le scuole, fonte di civiltà, hanno sempre sostenuto le grandi idee di libertà e di eguaglianza. E hanno accompagnato spesso lo sviluppo industriale. Vedete, quello che va messo insieme oggi è la capacità di sviluppo economico, ma anche la capacità di costruire cittadini consapevoli, di superare le diseguaglianze strutturali del nostro Paese, di mettere insieme economia e democrazia. Sono cose che non solo convivono, ma sono un elemento fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese. Ebbene, occorre ricordarle, la cultura, al di là di tutto, è sempre un bene in sé, forte, autorevole da solo, una leva insostituibile per favorire il pieno di spiegamento delle personalità. Vedete, l'ignoranza è un male endemico che minaccia la democrazia e anche le nostre imprese. È un tema centrale sul quale bisogna costruire una vera strategia. Vedete, nel nostro Paese, purtroppo, il tema dell'education è stato un tema, in qualche modo, coltivato da tanti appassionati di questo tema. Coltivato da persone che ritengono che l'education sia un tema centrale per il nostro Paese. E però non è mai stato un tema centrale del dibattito pubblico. Non ha coinvolto la società e la popolazione italiana. Oggi dobbiamo farlo e ci sono segnali importanti di cambiamento in questo senso. Vedete, non a caso ricorderemo l'education, education, education di Obama, Tony Blair. Cioè l'idea che l'innovazione e le riforme si fanno prevalentemente attraverso l'education e il sistema scolastico. Vedete, allora, l'affermazione di un'economia fondata sulla conoscenza ha ridefinito il sapere, ha diventato un valore essenziale della produzione economica e opportunità di crescita civile. Vedete, noi abbiamo assistito a una straordinaria metamorfosi che è in atto, che è stata già in atto e che di fatto sta dentro la nostra visione del mondo delle imprese. E cioè che noi, in questo momento, abbiamo legato la tradizione dell'impresa, e cioè legata, nei vecchi tempi, alla terra, alle macchine, alle impianti industriali, con un altro elemento che si è aggiunto prepotentemente nel sistema scolastico, ed è il capitale intellettuale, che è diventato un elemento fondamentale, identico, forse ancora più forte della materialità del sistema delle imprese. Questa è la grande rivoluzione, il grande cambiamento. La tradizione dell'impresa, la fabbrica, la materialità, è il capitale intellettuale che è diventato il vero elemento di competitività. E allora, guardate, vedete, più alti livelli di scolarizzazione non rappresentano solo la crescita del PIL, lo ha detto bene Paolazzi. Paolazzi, quello è una valutazione ormai radicata nella discussione economica ed è anche il senso di un ritardo del nostro Paese rispetto a un fattore che potrebbe da solo, in qualche modo, rimettere in pista il nostro Paese. Ma vedete, non è solo questo. E anche maggiore inclusione sociale. Una maggiore inclusione sociale crea e genera ricchezza di per sé. È anche un fattore di sviluppo economico. E vedete, noi ce ne occupiamo, siamo qui a Bari, in una delle regioni del Sud che ha dato, credo, il maggior senso di innovazione. Lo si vede anche nei test scolastici Pisa. La Puglia oggi si trova al centro, tra tante regioni del Mezzogiorno che sono in grandissimo ritardo, e tante regioni del centro-nord del Paese che invece, in alcuni contesti, penso la Lombardia, sono al di là anche dei grandi paesi. Penso la Germania ha dati minori di quelli della Lombardia. E allora, credo che sotto questo profilo dobbiamo mettere insieme due questioni. La questione morale, perché l'etica e i valori sono fondamentali per la crescita economica, ma anche la questione educativa. Queste cose nella economia della conoscenza si integrano, diventano fattori abilitanti, forti della capacità di crescita del Paese. E allora, parso velocemente su una cosa, negli Stati Uniti e d'Europa, allora, l'espressione no child left behind, cioè non lasciare i ragazzi indietro, che è un tema centrale. Il nostro Paese spreca troppe risorse, risorse materiali e risorse di ragazzi brillantissimi che stanno nel nostro Paese. E ciò che è più importante, finora è necessario che sotto questo profilo bisogna cambiare radicalmente. Occorre assicurare sicuramente un governo razionale delle nostre risorse, sia nel livello scolastico, sia nell'università. Guardate, vi è uno strettissimo legame tra inclusione sociale e qualità dell'istruzione. Questo è un tema centrale, molto spesso messo ai margini del dibattito. E poi c'è un tema centrale legato a una questione fondamentale di cui Confiduza si occupa da tempo, con grande forza. E questa cosa è, è semplicemente questa. Noi abbiamo dei ragazzi che nel percorso di studio rimangono lì in classe, a studiare ogni giorno, ogni anno, e non si scommettono mai sul mercato del lavoro, affrontano il mercato del lavoro tardivamente, dopo un lungo percorso scolastico. Un percorso scolastico che, peraltro, nella nostra realtà italiana, è un percorso molto più lungo degli altri Paesi. E allora, mantenendo l'idea di autonomia tra scuola e mondo economico, occorre in qualche modo farli dialogare. E questa è la scelta forte, rilevante, importante, sulla quale dobbiamo scommettere. Vedete, poi dobbiamo affrontare la rivoluzione digitale, le nuove questioni, tutto quel dibattito che a livello internazionale sta raccontando come cambia la scuola, come cambierà la scuola, come si può integrare il modello utile della scuola con le grandi innovazioni, ma voglio andare avanti su questo. E allora vi dico, un sistema di questo tipo ha bisogno di alcune questioni. Ora, al di là delle grandi rivoluzioni, che meriterebbero di per sé un dibattito molto ampio sotto questo profilo, voglio evidenziare quali sono le strategie principali con cui attaccare positivamente il sistema scolastico, cercando di cambiarlo. Quello che manca al nostro Paese, quelle questioni che in qualche modo possono modificare la nostra valutazione, innanzitutto l'orientamento. Il nostro è un Paese che non ha uno strumento di orientamento istituzionale o privato. I ragazzi scelgono i percorsi scolastici non tenendo conto di alcune formulazioni di orientamento, che negli altri Paesi sono invece fondamentali. Penso all'orientamento che fanno le Camere di Commercio in Germania, che è stato uno degli elementi fondamentali della crescita di percorsi di istruzione tecnica e professionale. Ebbene, i nostri ragazzi non sono accompagnati al lavoro, perché l'orientamento non consente di accompagnarli al lavoro. Non c'è. Ne hanno paura perché non conoscono questo mondo. Se i ragazzi oggi sono un po' conservatori, se sono preoccupati rispetto al loro futuro, è perché non hanno gli strumenti e le conoscenze necessarie a capire quello che devono fare, sia nel percorso scolastico sia nel mondo del lavoro. E allora, sotto questo profilo, come sapete bene, solo il 4% degli studenti tra 15 e 29 anni riescono a integrare studi al lavoro. In Germania sono il 22%, è un dato che cresce ancora nel tempo. La disoccupazione giovanile la conosciamo bene noi. Qui, nel dato aggregato, è il 40%, in Germania è il 7%. Gran parte di questo 7% è dovuto all'integrazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro. E allora credo che tra i tanti spread che noi abbiamo con la Germania, lo spread educativo è uno dei spread principali, forti, perché quello che dice Paolazzi è la dimensione economica del sistema scolastico. Quello spread si è allargato in questi anni. Dobbiamo correre e superare questo divario. Vado velocemente. Guardate, c'è un tema di occupabilità che deve tornare nel dibattito. Gli uffici di placement per i ragazzi sono uffici in qualche modo solitari. Alcune università, alcune scuole secondarie, non sono un progetto organico del sistema del nostro Paese. Allora, questi sono due temi centrali da mettere in campo. Altro, il rilancio dell'istruzione tecnica. È uno dei temi che sono molto cari a Gian Felice che è qui in sala. Noi abbiamo avuto una illusione ottica e culturale alla fine degli anni Sessanta. Ricordate che il nostro Paese è stato un Paese che, come raccontava brillantemente uno dei titolari di questi aerei, il nostro Paese è cresciuto, distrutto, lacerato, avendo perso una grande guerra, un Paese sbriciolato, senza identità, è stato un elemento fondamentale sotto questo profilo. E l'ha fatto, guardate, con due elementi. Una grande diffusa capacità imprentoriale, un ottimismo sul futuro del nostro Paese e con tanti istituti tecnici che sono stati il cuore della crescita economica del nostro Paese. Ora è evidente che, quando parliamo di istituti tecnici, non possiamo parlare di quella stagione. Dobbiamo parlare di istituti tecnici diversi, che abbiano nuove tecnologie e che devono diventare attrattivi per i ragazzi. I ragazzi oggi riconoscono la dimensione tecnica, stanno nella dimensione tecnica, stanno davanti a un computer o ad altre strutture. Non possiamo dare ai ragazzi l'idea di istituti vecchi, che guardano a una manifattura degli anni 80, 70, 60. Dobbiamo integrare la qualità della nostra manifattura con la qualità dell'innovazione tecnologica. Questo è il modo vero, forte, per rimettere in campo gli istituti tecnici, ridargli dignità sociale, credibilità sociale, facendole diventare di nuovo un luogo di crescita e di sviluppo del nostro Paese. Poi, altre due questioni centrali, importanti, è l'autonomia della scuola. Noi abbiamo un sistema scolastico che concentra tutto al centro. Un sistema scolastico che quindi alimenta, fa crescere una burocrazia che in qualche modo pensa di poter gestire il sistema scolastico da Trento a Siracusa o a Ragusa. È una follia, è una follia perché quella questione burocratica è quella che in qualche modo tende a limitare le grandi innovazioni. Allora non dobbiamo mettere in campo due questioni fondamentali che si tengono insieme e che insieme sono un elemento fondamentale della crescita del nostro Paese. E cioè mettere insieme autonomia e valutazione. La valutazione non è una sanzione come molto spesso si parla nel Paese. E viene vista da gran parte del Paese, dagli stakeholder, ma anche da tanti osservatori, come un elemento di sanzione di qualcuno. Non è così. La valutazione è un modo per far crescere la scuola, è un modo per garantire ai ragazzi un percorso, per dare prospettive ulteriori agli insegnanti, a quelli che costruiscono il cuore del nostro sistema educativo. E allora dobbiamo smetterla di pensare che qualunque cosa, qualunque valutazione sia una sanzione, un pericolo. Basta. La valutazione, se terza, se terza, è equilibrata, è un elemento fondamentale ed è quella che può impedire la deriva dell'autonomia. Quindi autonomia e valutazione sono temi che si tengono insieme e che possono rappresentare un grande elemento di futuro della scuola. Vado verso la chiusura. Vedete. E poi c'è un tema centrale, che è la nostra forza. Noi viviamo in un mondo globalizzato, tante delle nostre aziende esportano, stanno su tanti mercati, abbiamo assistito, ascoltato Prismian, ma ne ascolteremo tanti altri successivamente. La nostra forza è la capacità di essere globali, ma la nostra forza è anche il nostro territorio, ma non il territorio come difesa. Il territorio come elemento di innovazione, forte. Perché vedete, il territorio ha due caratteristiche fondamentali. Può essere un luogo di difesa che blocca il Paese, che si riempie di conservatorismi, che non riesce a essere innovativo, però c'è anche quei territori che sono innovativi. I nostri territori sono fortemente innovativi. E il sistema scolastico è un sistema radicato sul territorio, per questo si parlava di autonomia e valutazione. La nostra forza è il territorio. Sotto questo profilo la nostra forza, e lo voglio dire anche per sfatare un mito, il mito è che a questo tema serva solo alle grandi aziende del nostro Paese. Non è vero. Ci sono tantissime piccole e medie aziende che fanno dell'education un elemento di capacità competitiva. Quindi smettiamola di pensare che sia solo una questione delle grandissime aziende. Lo è in maniera molto forte, lo citerò anche ora. Però il nostro sistema guarda all'education, all'innovazione, dalle piccole aziende con dieci dipendenti fino alle grandissime aziende con migliaia di dipendenti. Questo è un tema centrale, perché questo tema è trasversale a tutto il nostro sistema, che è fatto di piccole e di grandi aziende. Gli esempi positivi. Più tardi sigleremo probabilmente una cosa con Finmeccanica e col Ministero del Lavoro. Hanno selezionato 60.000 curriculum, 1.000 li hanno messi in azienda. Altri andranno in tante altre aziende. C'è un protocollo che firmeremo tra breve. Quindi c'è una capacità di innovazione molto forte. Ci sono gli ITS, gli istituti superiori, post-secondari e terziari non universitari, che cominciano ad avere una capacità di radicamento sul territorio. Ovviamente non hanno l'effetto e la rilevanza che hanno in Germania. In Germania ben il 14% dei ragazzi va nelle Fakonschulen, che rappresentano la forma del nostro ITS. Federmeccanica, che insieme a Confidus tra Modena e Reggio Emilia l'anno prossimo avrà, diciamo così, orienta giovani, che è un elemento fondamentale. Parleremo anche lì di istruzione tecnica. L'Enel, qui c'è Fulvio Conti, con un progetto importante, con 150 ragazzi, che riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Il Comitato di Investitori Esteri, che stanno investendo sugli ITS. Il Club dei 15, che rappresenta una tradizione storica del nostro paese. Sono club, ora sono 17 e non più 15, che hanno adottato un istituto tecnico, che supportano questo istituto tecnico per dare un esempio e un'importanza di questi temi. Ma mi avvio a chiudere con una breve riflessione finale. Vedete, uno dei temi che non abbiamo mai trattato e che credo vada trattato a maggior ragione in questa sede è da imprenditori. È il tema della diseguaglianza nel nostro paese e a livello globale. Vedete, scuola-università su questo tema sono dei potentissimi antidoti contro la diseguaglianza, molto più delle vicende economiche e sociali. Oggi, in Italia, scuola-università sono sempre meno degli ascensori sociali. Lo sono da tanto tempo, da troppo tempo. E vedete, soltanto un laureato su dieci proviene da una famiglia dove il titolo di studio più alto è la scuola media. Vedete, una delle cose incredibili, più brutte che abbiamo nel nostro paese è che, come appare spesso e come succede spesso, il destino dei ragazzi dipende prevalentemente dalla capacità della famiglia, non solo economica, ma anche dalla capacità di studio della famiglia. Questa è una cosa intollerabile per un paese civile. La diseguaglianza, innanzitutto, è uno spreco enorme di risorse civili e umane. E allo stesso tempo è un modo per rendere più mobile il paese. Questo è un tema centrale. E la scuola è l'unico strumento che in qualche modo può garantire un superamento delle diseguaglianze. Allora, credo che qui da Bari il messaggio che dobbiamo lanciare è un forte messaggio ai giovani e alle famiglie. noi crediamo tantissimo nelle potenzialità dei giovani italiani. Sappiamo che loro possono rappresentare veramente uno sviluppo e non abbiamo timore che vadano all'estero. Basta con questa idea che qualunque ragazzo che vada all'estero sia un pezzo di paese che se ne va. Il problema non sono i ragazzi che vanno all'estero. Il problema sono i ragazzi che in qualche modo non tornano più. Cioè nel senso che la mobilità è a senso unico, è un'uscita, non in entrata. Questo è il tema. Ma i ragazzi devono andare fuori. Siamo in un mondo globalizzato. Un mondo dove sono anche diciamo così venendo meno specialmente le nuove generazioni le dimensioni nazionali. I ragazzi che stanno fuori da tempo sono ragazzi che si sentono italiani, francesi, inglesi, americani. E questo è un elemento fondamentale perché garantisce pace e sviluppo al nostro sistema. E allora credo che sotto questo profilo il tema della diseguaglianza sia un tema centrale su questo e non possiamo non farcene carico. Vedete credo che sulla scuola e sull'università il nostro paese deve scommettere. Deve scommettere per quello che dicevo e che condividono tanti per la questione sociale per la diseguaglianza per lo sviluppo economico. Ma anche lasciatemelo dire per un paese che con una buona scuola capace di innovare di essere un oggetto di crescita di innovazione del paese diventa un paese migliore. Un paese dove attraverso la scuola si può superare alcune questioni tradizionali. Io sono convinto che per esempio la lotta alla delinquenza organizzata alla mafia la faranno se cambiamo la scuola molto di più gli insegnanti che non delle forze dell'ordine perché gli insegnanti in qualche modo possono modificare le capacità dei ragazzi possono indirizzare i ragazzi dare ai ragazzi una idea in cui le regole lo Stato la capacità di rispettare le regole sono fondamentali. Questo lo può fare solo la scuola non lo possono fare le famiglie di origine non lo possono fare solo le azioni repressive lo può fare solo un grande strumento come la scuola italiana e internazionale. Grazie. Grazie. Applausi Grazie.